arrivare di fatto al top a disposizione per le coppie d'artistico in ambito sollevamenti. Esattamente, esattamente. Insomma, le ambizioni sono importanti. Andiamo a seguire la prima coppia di questo programma libero. Lidia Smart, Harry Matic. Lidia Smart, Harry Matic. Che arrivano dalla Gran Bretagna. È una coppia con poca esperienza in ambito internazionale anche perché hanno iniziato a patinare insieme da pochissimo tempo. Lidia Smart, Harry Matic. Lidia Smart, Harry Matic. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.